Apple delude, l'azienda di Cupertino, chiude il primo trimestre dell'esercizio fiscale 2013 con la cifra record di 47,8 milioni di iPhone venduti e ricavi per oltre 54 miliardi di dollari, numeri che non bastano a rassicurare il mercato, che subito punisce Apple. Il titolo affonda nella contrattazione a After Hour a Wall Street, dove le quotazioni arrivano a cedere quasi l'11% a 458 dollari. E alcuni analisti prevedono che la parabola a ribasso continuerà con Apple, che potrebbe scendere a 425 dollari per azione già in questo trimestre. L'utile netto di Apple è risultato pari a 13,1 miliardi di dollari, quasi invariato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E il balzo dei ricavi del 18% non basta a spazzar via i timori degli analisti sulle prospettive di crescita della società. Preoccupazioni che nelle ultime settimane hanno pesantemente penalizzato il titolo, facendogli perdere il 27%, circa 190 miliardi di dollari, dai picchi di settembre. Gli analisti scommettevano su ricavi pari a 55 miliardi di dollari, con un'utile operazione di 13,44 dollari. Il titolo Apple risente da subito dei risultati deludenti ai quali si aggiunge la decisione dell'antitrust USA di rivedere la vittoria di Apple su Samsung. A pesare però soprattutto la decisione di Apple di rivedere le linee guida per il trimestre successivo. Se finora Cupertino era famosa per stime conservatrici, ora, precisa la società, Apple diffonderà linee guida che sono quelle che punta a centrare in pratica i risultati che reputa raggiungibili.